La cultura greca era soprattutto il primato della ragione che aveva rappresentato il passaggio che la polis ellenica aveva compiuto rispetto alla realtà precedente. Questa sera noi riapriamo la terrazza del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria alla città e al territorio. Lo faremo per tutta l'estate, il giovedì e il sabato, dalle 20 alle 23, con un obiettivo d'ingresso che poi permette anche di visitare tutte le sale espositive a soli 3 euro. Quindi è un'occasione importante per venire qui al museo e godere non solo dei bronzi di riace, non solo delle collezioni, ma in particolare di uno straordinario paesaggio, di uno straordinario panorama sullo stretto di Messina e poi ascoltare e godere dei tanti eventi che abbiamo in programmazione. Iniziamo questa sera con la conferenza del professor Pasquale Amato. Continueremo sabato sera con un'altra conferenza importante del dottor Francesco Condano che ci parlerà di la Calabria al centro del Mediterraneo, focalizzando l'attenzione sull'età del ferro e poi tante tante sorprese vi aspettano qui al museo per tutta l'estate. Grazie. 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 Grazie.